Che cosa significa sostenibilità e sicurezza per un'azienda come FastWeb? Allora, sostenibilità, sicuramente dare un occhio alle tecnologie green, perché FastWeb è un'azienda che ha sposato la causa green, e quindi cercare di introdurre nell'ambito della flotta aziendale delle auto più ecologiche possibili, quindi in questo momento con un minore impatto di CO2 nell'aria. Per quanto riguarda la sicurezza, io sono convinta che, dato che i nostri drive passano tantissime ore in macchina, bisogna dargli dei mezzi sicuri, bisogna dargli dei mezzi sicuri, ma non solamente per quanto riguarda il Bluetooth, il navigatore satellitare, perché ormai sono basici, ma soprattutto per quelle macchine, quei modelli dotati di sistemi di sicurezza quali il cruise control oppure l'assistenza alla frenata e alla guida. Quindi l'innovazione tecnologica possiamo dire che è un elemento fondamentale quando si parla di mobilità, di turismo, eccetera? Fondamentale l'innovazione tecnologica in tutte le fasi di un viaggio, per quanto riguarda la flotta aziendale, io credo che il futuro siano le macchine elettriche, che è vero che non sono impatto ambientale zero, però contribuiscono sicuramente a tenere l'aria più pulita e avere un minore impatto ambientale. In questo momento sono un'innovazione tecnologica, non siamo pronti, la rete di distribuzione, la rete stradale non è pronta in questo momento, ma sono sicura che sarà il futuro.